che cosa c'è in un bicchierino di grappa sappiamo di dare una delusione coccente a molta gente ma ve lo dobbiamo dire il componente maggiore è sicuramente l'acqua il secondo componente per quantità è l'alcol etilico che però non è solo è insieme ai suoi fratelli maggiori gli alcoli superiori così chiamati perché hanno più di due atomi di carbonio e poi c'è il suo fratellino piccolo un povericchino che è l'alcol metilico che gli atomi di carbonio ne ha uno solo poi abbiamo gli acidi tanti acidi che in un simile ambiente vanno volentieri a sposarsi con gli alcoli per derivare gli esteri tanti acidi tanti alcoli una miriade di esteri profumati abbiamo anche le aldeidi composti un po' arrabbiati perché non sono riuscite a diventare né un alcol né un acido li vediamo poi bene e infine tanti altri componenti dei quali vogliamo mettere in evidenza i terpeni molecole profumatissime e graditissime in genere da tutti i consumatori in lasciando da parte l'acqua cominciamo a interessarci della secondo componente per quantità gli alcoli l'abbiamo già detto l'alcol etilico che è il principale costituente della famiglia ma alla grande cioè qua si lavora in percentuale quando parliamo dei suoi fratelli andiamo a parlare in pericolo mille tanto per intenderci però sono importanti sia gli alcoli superiori sia l'alcol metilico più gli alcoli superiori l'alcol metilico meno ce n'è più piacere ci fa perché gli alcoli superiori hanno comunque una determinata nota in genere alcolica sono pochi hanno un potere narcotico molto superiore a quello dell'alcol etilico sono fondamentali perché come vedremo sposandosi con gli acidi ci danno moltissimi esteri profumati vediamoli quindi questi acidi sono tanti molti di più di quelli che abbiamo riportato che sono già tanti abbiamo l'acetico che sicuramente primeggia per quantità sugli altri derivato come dalla ossidazione dell'alcol etilico ma poi abbiamo il formico il butirrico il lattico il propionico l'isovalerianico il capronico l'enantico il pelargonico il caprico il caprico il caprilico nomi che chiaramente detti così vi suoneranno malissimo in realtà questi acidi qua combinandosi danno veramente il profilo olfattivo della grappa ed ecco i figli del consumato matrimonio tra alcoli e acidi gli esteri il più importante è sicuramente l'acetato di etile un composto a nota decisamente fruttata molti assaggiatori la definiscono la nota vinosa tanto per intenderci ma naturalmente come abbiamo detto prima ogni acido può creare con ogni alcol un estere e quindi ne abbiamo tantissimi altri quasi tutti a nota fruttata sto parlando naturalmente di quelli che apprezziamo quelli che cerchiamo di ottenere durante la fermentazione ma soprattutto poi durante anche la conservazione della grappa la combinazione tra acidi e alcoli non si ferma con la fermentazione alcolica c'è una concentrazione con la distillazione e c'è una continuazione di formazione durante sia l'affinamento ecco perché la grappa trae beneficio da un affinamento anche in acciaio inox tanto per intenderci o in vetro sia quando chiaramente si tratta di una elevazione in legno e giungiamo alle aldeidi quindi dicevamo prodotti un po' arrabbiati perché alla fin dei conti non sono riusciti a diventare né un alcol né un acido quindi rimangono lì ora alcune sono decisamente negative soprattutto quando superano certi livelli per la grappa riescono a dare un sentore vegetale e altre addirittura peggio danno un sentore di sudore quelle intermedie di fieno quindi di vegetale secco tanto per intenderci ma qualcuna naturalmente accentua le note caseose che per la grappa sono decisamente negative abbiamo però delle aldeidi che sono veramente importanti caratterizzanti e molto gradite tipo per esempio la siringica o la valerianica che vengono a formarsi durante il periodo di invecchiamento attraverso la degradazione di prodotti di costituenti del legno estratti naturalmente dalla grappa ce n'è una in particolare che invece viene fuori dalla distillazione e che per molto tempo ha rappresentato veramente una tortura per i distillatori che è il furfurolo, un furfurale che dirci voglia è quella che dà il sentore di ampereumatico perché viene fuori dalla bruciatura della materia organica che noi abbiamo in alambicco tutti positivi possiamo dire invece i terpeni che addirittura caratterizzano una categoria di grappe quelle ad aroma primario dette anche grappe aromatiche i terpeni sono presenti un po' in tutti i tipi di uva non raggiungono mai durante la distillazione il punto di vapore per cui vengono estratti in fase di distillazione per strippaggio ora qui diventa interessante tornare al discorso che la grappa è fatta per distillazione diretta delle bucce degli acini d'uva perché in effetti questi terpeni transitano in questo modo nell'acquavite e qui abbiamo il massimo dei sentori floreali il miele, tanto per intenderci le note aggrumate le note di erbe balsamiche tutte dovute ai terpeni